la potenzione a livello 2-3 è più bassa però non è che fa troppo perché io non l'avevo più troppo però non sembra più facile cioè facendo un video è molto più difficile ma facendo un semplice gameplay senza nulla è facile qualcuno va avanti non deve spiegare nulla ma basta un po saranno quegli indovinelli che sono un po troppo difficili però per il resto è ottimo come gioco grazie come si Ma rinascono questi cosi? Non ci sta capendo troppo. Come è caduto? E dai. Esci dalla. Eh no, guarda che roba, oh. Siete proprio noiosi come... mostro da combattere. Siete troppo noiosi. Mamma mia, oh. No, è rientrato sotto. Per favore uccidila, non deve più rientrare là sotto, dai. Non mi frega nulla, buttarmi sotto. Amen. Sì. Allora, così. Vediamo. Adesso. Raga, tra un po' devo stacco, la rec, quindi almeno finisco più in un'altra volta, come avevo fatto più precedente, quindi... Wow. La catena dell'equilibrio. E poi riprendo una prossima volta. Wow. Questa, però, è finissima. Non si vede tanto, però. Figo. Voglio uccidermi. Uccidilo. Grazie. Ma che potenza. Ma non puoi provare a mandare le testi. Ma tutto su sto gioco che... Abbiamo bisogno molto di te. E dai. E collabora, no. Prè. E vbeh. Questa. Garantina. Dai zero Ok, 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 ho trovato il modo per farlo funzionare bene, perfetto, guarda se mi facevi cadere il volo è bellissimo, è un po' così bellissimo il volo. Un po' giù, un po' giù. Wow. Wow. Ok, però è bellissimo, è bellissimo, credo. Ok. Ma che cosa? Ok. Un po' giù è, un po' giù è vera. non ci siamo andati per puro caso qua sopra ci siamo andati per puro caso qua sopra si ma troppo troppo tempo ai più luce ma che serve di sta roba? ok perché non ho cliccato R1? mi sono diventato di cliccare R1 ok ok non ci siamo riusciti ok non era così difficile prima prima non era così difficile ok ok non è così difficile ok non posso riposare il suo ragazzo ok 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 Grazie. 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 Grazie.